Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove si è verificato un incidente tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. Si informa che l'area di servizio di Bisenzio Est in direzione Bologna ha il camper service chiuso per un guasto all'impianto. Anche l'area di servizio di Serravalle Sud in direzione Firenze sulla 11 ha il camper service chiuso per un guasto. In A12 personale sulla strada per lavori in uscita a Colle Salvetti provenendo dal Rosignano. Sulla statale 1 Aurelia rallentamenti per un veicolo in avaria circa 4 km prima di Donoratico in direzione Sud. Sulla statale 62 della Cisa chiusura di una corsia per lavori tra Villa Franca in Lunigiana e Pontremoli in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!